Grande festa per i cento anni di Nunzio Liguori, conosciuto da tutti gli agropolesi come Natino, storico titolare del Baranna di Piazza Vittorio Veneto ad Agropoli e maestro gelataio. Natino, che è quasi istituzione ad Agropoli, è stato festeggiato per i suoi cento anni lo scorso 10 gennaio presso il ristorante agropolese Il Ceppo, circondato da parenti e amici che hanno voluto riservare i migliori auguri al nonno, che ancora gode, di un'ottima forma fisica. Natino Liguori deve la sua fama all'attività di gelataio, iniziata negli anni 30 come venditore ambulante di sorbetto al limone e poi culminata nel 1957 con l'apertura insieme alla sorella del Baranna, locale centralissimo e rinomato per i suoi gelati ancora oggi e attualmente gestito dai figli e nipoti. Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia, con la seconda guerra mondiale, combattuta fino a pochi mesi dall'armistizio e con una grande passione, quella per il gelato, che hanno reso Natino un uomo rispettato e benvoluto da tutti i cittadini di Agropoli e che ora raggiunge anche questo straordinario traguardo. Io vi ringrazio a tutti quelli che sono presenti e quelli che mancano. E che mancano a quelli che sono mancato, vuol dire che non è possibile venirmi e poi salutarmi. Io vi ringrazio a tutti, la piccoli e i grandi. Grazie, Natino!